sono nicole e sono nata sotto il segno del capricorno nel corso degli anni ho appreso le diverse sfaccettature dell'arte divinatoria adesso so di poter affiancare chi ha perso la speranza o sta cercando una risposta parlare con me ti aiuterà a imboccare la giusta via al video più importante